Sì Io prendo sempre quei che mi dicono qualcosa, sono migliaia, poi dico prendi me, prendi me, prendi me, poi dico eh, devo guardare. Dove le prendi? Del fiume, sono le perle del fiume, soltanto l'uno del fiume. Tutti sassi che lavoro qui. Io invento Air Patrol un sasso se uno lo sceglie. E poi posso sempre anche schliessen auf den Menschen. Posso anche sempre... Perchè la scelta, lo dico. E poi anche cosa mi suggerisce, cosa mi dici, cosa mi dici, cosa mi dici, cosa mi dici. Offenbar, dementsprechend, è un schamanenzeichen.